Ciao amici, praticamente stiamo spacchettando tutta la mia collezione oggi andremo a spacchettare questo box 2008-2009 di Champions League della Vanini allora procediamo con lo spacchettamento ecco qui, adesso apriamo le bustine e vediamo cosa troviamo Baccal del PS Buendoven, Pisaro della Roma, Wendel del Bordeaux, Piquet del Barcellona, Halieff del Dinamo Ghev continuiamo ad andare avanti con lo spacchettamento, Hulk del Porto questa è una figurina particolare, c'è Maldini, Streller del Basilea, Marquez del Barcellona, Gilmaltz del Ferrebes poi abbiamo Nagamura del Celtic, Gia Quinta della Juventus, Sagnol del Bayern Monaco, Lell del Bayern Monaco Zuccanwich del Borissov, poi abbiamo Guan della Roma, Stanku della Stella Bucharest Safari del Basilea, Bubadier, GGX del Manchester United poi abbiamo Ziani del Marsiglia, Pronbeck del Zenith, Jurietti del Bordeaux, Higuain con la maglia del Real e El Kaduri della Dinamo Ghev Jenson dello Shark Donners, Giulio Cesare dell'Inter Ergic del Basilea, De La Red del Real Madrid e Carlos Tevez del Manchester United Torres del Liverpool, Stras del Shakhtar Donetsk, Racing del Bayern Monaco e Rodinov del Borissov Allora, i Saxon del PSV, Rio Ferdinand del Manchester United, Frosus, Alcantara e Vereminko Neville del Manchester United, Aniukov del Zenith, Luca Toni con la maglietta del Bayern Monaco Le Grottaie della Juventus e Cone Romagnoli dello Sporting, Clisi dell'Arsenal, Diego Ruiz, Melberg della Juventus e Freddy Guarin del Porto Quanto sta ancora al Porto Poi passo all'Inter Allora, poi Madi Fernandez, Villareal Joan Harne Riese della Roma Stavievic Stavievic Litarovic Vukojevic Allora Ibagazza del Villareal Radimov dello Zenith Scopelis Ugo Almeida del Verde del Brema Ugo Almeida del Verde del Brema Perenovic del Basileo Anel K del Chelsea Simao dell'Atletico Madrid Messi Lionel Messi del Barcellona Sindu Keita del Barcellona Che poi passo anche alla Roma Per due stagioni Lucio Gonzales del Porto Perea dell'Atletico Madrid Zirianov dello Zenith Guaresma con la maglia dell'Inter Brevi parentesi perché poi torno a casa Yusuf Sablik Della Dinamo Kiev Allora Atletico Madrid Inbanez Inkel del Celtic Calou del Chelsea Costanzo Basilea Margue Basilea Allora Valbuena del Marsiglia Lo Scudetto del Panunitacos Nedved della Juventus Adesso è dirigente Vintra e Boral Ed Milson e Villareal Lissandro Lopez del Porto Questa è una figurina con il Real Madrid Julio e Gallas dell'Arsenal Scudetto della Juventus Scudetto della Juventus Scudetto della Juventus Ogaruru Miele Vischi per Alta Kim Robby Kim del Liverpool Incluci lo Scudetto Scudetto della Fiorentina Varai NSD per del Brema e Alvaro Pereira che poi passò anche per l'Inter in una stagione Dialo Mendez Lo Scudetto della Champions League Tula Lan e Sargovski Nizimailov Boruk Samaras Kadu Senzo Ischi Kuit Scudetto della Juventus Kuit Scudetto della Juventus Poi Cazzorla della Villareal Doni della Roma Cana della Marsella Pasanen del Verde del Brema Nicolau Lorente della Villareal Ubb Scamann Bomsong Emberlsen e Runei del Manchester United Lo Scudetto dello Zenit Abram Frey e Pelé Filippo Mekses Scudetto verde del Brema Betao Skowiski Van der Sarre dello United Wolfram Lucas Leiva del Liverpool Iniesta del Barcellona Ribery del Bayern Monaco Hager del Liverpool Alberto Aguilani della Roma Randon Ugel Saint-Turk Senna del Villareal Balotelli dell'Inter Ratt Ratt Casillas De Mirella Leo Franco Drogba Figurina Figuina Champions League Lucas Leiva Lucas Leiva Giuseppe e Sagna ultima bustina Liedsson Giovinco della Juventus e Zauri della Fiorentina Wittich del Manchester United Ragazzi vi ringrazio ci vediamo al prossimo video Giovinco